Cambio al vertice della questura di Bari, Nicolino Pepe, vicario del questore, promosso dirigente superiore in attesa di un nuovo incarico, lascia il posto ad Aldo Fusco, dal 2006 dirigente del commissariato di Lentini in provincia di Siracusa, una lunga carriera iniziata nel 1989 con primo incarico alla questura di Messina al reparto mobile, poi dirigente dell'ufficio prevenzione generale, poi alla guida di vari commissariati siciliani, dal 98 al 2005 al servizio della DIA di Messina. Io sono particolarmente contento della scelta che ha fatto per noi il capo della polizia perché sono ben consapevole che un dirigente che ha fatto una prolungata esperienza di capo di gabinetto non potrà che essere un ottimo vicario del questore. Lascio una regione eccezionale, quella della Calabria, la Reggio Calabria, dove ho lavorato per oltre sei anni, per quasi sei anni e vengo qui con grande entusiasmo, ben consapevole di trovare uno staff di colleghi, dirigenti di primo ordine. Naturalmente come ogni inizio di avventura c'è anche una forma di rivisitazione, di cambiamento e di assunzione di una nuova veste quale quella di vicario e quindi anche di una rimodulazione di quelli che sono gli approcci con la comunità con la quale vado a confrontarmi. È inutile che vi nasconda, che sono estremamente lieto, felice e onorato di questa scelta che mi ha gratificato e vengo qui con grande motivazione perché Bari è una città prestigiosissima, una realtà prestigiosa con un territorio importante.